Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere la terza e ultima parte della prova di comprensione della lettura dell'esame CILS livello B2, prova del giugno 2017, tra le più recenti che potete trovare online. Nel video precedente abbiamo visto le frasi e il testo, le frasi erano relazionate a quel testo, dovevamo trovare quelle che contenevano informazione presente nel testo, se non sbaglio non vi ho fatto vedere le risposte finali, vi ho dato solo la mia versione, le sette risposte che dovevamo trovare erano queste, A, B, E, G, I, M, N, 7. Qui invece abbiamo questo testo che dobbiamo metterlo in ordine. E' un testo su Silvio Gazzanicca che sarebbe uno scultore mondiale che, Gazzanigga dovrebbe essere, no Gazzanicca, perché lo vediamo in molti posti scritto con la G, che appunto è lo scultore della Coppa del Mondo. Questa è la storia della Coppa del Mondo, il trofeo, che lo ha appunto ideato lui, dobbiamo metterlo in ordine. Come lo mettiamo in ordine qui? Qui c'è solo un modo per svolgere questa prova, dovete leggere tutte le frasi, non esiste altra possibilità. E' opzione, quindi l'unico modo è leggere tutto, però mentre leggete cercate di sottolineare delle parole che vedete ripetersi. Quindi se una parola si ripete continuamente dovete sottolinearla perché è probabile che quelle due o tre frasi che trovate con quella parola possono essere collegate l'una con l'altro. Quindi se avete trovato, che ne so, la numero 4 e una di queste tre, significa che le altre due saranno la 5 e la 6. E questo vi facilita il lavoro. Poi, una volta che avete risposto, mettete anche un segno al lato, che significa che quella frase l'avete già letta. E mentre fate le prime 3-4, poi diventa sempre più facile svolgere la prova perché ne avrete sempre di meno da leggere. Ne potete decidere tranquillamente. Qui bisogna però scegliere, fare attenzione all'ordine cronologico. Quindi, ad esempio, qui vediamo l'anno 1971. Qui invece 1974 significa che prima sarà la 1a e la 74 sarà dopo. Non sappiamo se subito dopo o due o tre dopo perché vediamo un 1971 anche qui. Però ovviamente si segue un ordine cronologico. E c'è anche un ordine logico. Spesso in questi compiti ci sono parole che si ripetono. Ad esempio, faccio un esempio banale. Mi sveglio e mi alzo dal letto. Dopo essermi alzato dal letto vado a mangiare. Dopo aver mangiato vado a scuola. Quindi vedete che capite subito che queste parole sono collegate perché ripetono l'azione che è stata menzionata nella frase precedente. E anche queste sono parole da sottolineare perché, ad esempio, alzarsi dal letto, l'ho detto due volte, mi sveglio e mi alzo dal letto. Dopo essermi alzato dal letto vado a fare quale azione. Quindi alzarsi dal letto bisogna sottolinearlo. Ogni volta che lo leggete sapete già che se mettete una di queste tre sapete subito che le altre due sono collegate. Quindi leggiamo tutto il testo. Non tutti sanno che a disegnare nel 1971 il trofeo di uno dei più importanti eventi sportivi, la Coppa del Mondo FIFA, è stato uno scultore italiano, il milanese Silvio Gazzaniga. Finché ci sarà posto su questi spazi per scrivere i nomi delle nazionali, la Coppa di Gazzaniga verrà messa in paglio, probabilmente fino ai mondiali del 2038. Interrogato su questo, il 95enne Gazzaniga sorride e dice la sua. Subito dopo il disegno, per rendere al meglio la particolarità scultore, a Gazzaniga pensò di preparare un modello formato con un calco in gesso da presentare alla commissione. Per questa ragione il 5 aprile del 1971 una commissione di esperti si riunì nella sede della FIFA a Zurigo e bandì un concorso internazionale per la creazione di una nuova Coppa del Mondo. Proprio la possibilità di toccare il calco e impugnare così l'opera, oltre che semplicemente vederla, colpì i giudici della FIFA. Attenzione, calco, l'abbiamo letto qui e calco qui, quindi sottolineiamo queste due parole. Sappiamo già che sono collegate. Quindi calco, lo sottolineate con una linea sotto. Se trovate altre parole simili, le sottolineate con due righe sotto, poi le altre con tre righe sotto, un'altra con una X sotto, così sapete già quali sono collegate tra di loro. Non potete sottolineare tutte con una riga sola perché farete confusione. Dovete mettere simboli diversi. Non appena seppe di questo concorso, Gazzaniga si misa all'opera, preparò un disegno in cui due giocatori alzano le braccia verso l'alto per raffigurare la gioia della vittoria. Ecco, qui concorso, due righe sotto, e concorso qui due righe sotto. Sappiamo che D e F sono collegate, così come sappiamo che E e C sono collegate perché hanno gesso in comune. L'anno prima, nel 1970, ai mondiali del Messico e il Brasile aveva vinto per la terza volta la Coppa Arimè, secondo il regolamento dell'epoca, dopo la terza vittoria vi era la definitiva assegnazione della Arimè. Quell'anno, quindi, fu assegnata al Brasile. Attorno e sotto questa base del trofeo, in appositi quadri, vengono incisi ciascuno nella lingua ufficiale della relativa nazione in nomi delle nazionali che dal 1974 hanno vinto il trofeo. Allora, io, per renderla un po' più chiara, metto calco, come vi ho detto, con una linea, concorso con due linee, dove era l'altra con il concorso? concorso, eccoci qui, due linee. Mi spiace sapere che la mia bambina andrà in pensione, ma è giusto così, mi piacerebbe che a realizzare la nuova Coppa fosse un giovane scultore perché sia espressione dell'epoca, della sua epoca, come la mia, e lo è stata a fine Novecento. Qui sembra che parli Gazzaniga e abbiamo visto in una delle frasi il 95enne Gazzaniga dice la sua, quindi B e I sono collegate tra di loro e mettiamo in entrambe un X. Così tra le 53 proposte presentate la Commissione scelse il progetto di Gazzaniga e la Coppa venne così fusa in oro massiccio a 18 carati per un'altezza di 36,8 centimetri. La base invece venne realizzata con due anelli di materiali semi preziosi. Base, l'abbiamo già letta se non sbaglio, attorno a questa base mettiamo anche qui un segno simile. Dopo l'assegnazione al Brasile, la FIFA ebbe quindi la necessità di creare un altro trofeo da assegnare alle squadre vincitrici dei successivi mondiali. Quindi Brasile, anche il Brasile l'abbiamo visto sia Rimet, quindi mettiamo che ne so, una U sotto il Brasile qui e sotto il Brasile qui. Sappiamo che anche queste sono collegate. Quindi partiamo dal presupposto che Gazzanigga, sappiamo già la numero uno, è stato uno scultore italiano che ha disegnato la Coppa del Mondo FIFA. Dobbiamo cercare perché lui ha disegnato questa Coppa. L'ha disegnato nel 71, un trofeo di uno dei più importanti eventi sportivi, la Coppa del Mondo FIFA, che è stato appunto lo scultore milanese Gazzanigga. Perché l'ha disegnata lui? Qui lui dice la sua dovrebbe essere verso la fine basandosi su quello che abbiamo letto. Subito dopo il disegno no, non può essere questa. Per questa ragione non sappiamo qual è la ragione. calco nemmeno non appena seppe di questo concorso no, il concorso prima deve uscire. L'anno prima ai mondiali del Messico il Brasile aveva vinto per la terza volta la Coppa Arimè secondo il regolamento dell'epoca dopo la terza vittoria vi era la definitiva assegnazione della Arimè quell'anno quindi fu assegnata il Brasile. Quindi l'anno prima del 71 il Brasile aveva preso la Coppa Arimè e quindi l'aveva già vinto tre volte chi la vinceva tre volte otteneva la Coppa Arimè per finale diciamo così e non c'era più la possibilità di riconsegnarla alle altre nazioni quindi questo è il motivo per cui nel 71 cercavano un'altra scultura un altro esempio di questa Coppa attorno a questo tela base no mi spiace sapere abbiamo detto che è collegata alla B così tra 53 proposte presentate no non è ancora ufficiale il concorso dopo l'assegnazione del Brasile abbiamo detto Brasile U Brasile U sono collegate quindi la 3 dovrebbe essere appunto questa dopo l'assegnazione al Brasile la FIFA ebbe la necessità di creare un altro trofeo da assegnare alle squadre vincitrici dei mondiali quindi adesso la necessità c'è bisogna creare il concorso che abbiamo già letto se non sbaglio concorso e l'abbiamo segnato con due righe quindi dovrebbe essere questa la 4 per questa ragione nell'aprile del 71 71 era anche la A una commissione di esperti si riunì nella sede della FIFA Zurigo e bandì un concorso internazionale per la creazione di una nuova Coppa del Mondo e concorso l'avevamo segnato anche qui quindi questa dovrebbe essere la 5 non appena seppe di questo concorso Gazzaniga si minimizza l'opera e preparò un disegno in cui due giocatori alzano le braccia verso l'altro per raffigurare la gioia della vittoria dobbiamo adesso cercare più dettagli quindi lui disegnò preparò un disegno per con due giocatori che alzano le braccia e dobbiamo cercare se c'è ulteriore informazione riguardo al disegno ad esempio possiamo mettere una linea verticale sotto il disegno e cercare altri punti con il disegno qui vediamo anche qui c'è la parola disegno quindi preparò il disegno con due giocatori subito dopo il disegno per rendere al meglio la particolarità scultorea Gazzaniga pensò di preparare un modello formato con un calco in gesso da presentare alla commissione quindi la 6 dovrebbe essere la C e attenzione calco abbiamo un'altra frase con calco che è la E proprio la possibilità di toccare il calco e spugnare così l'opera oltre che semplicemente vederla colpì i giudici della FIFA che dovrebbe essere la 7 vedete adesso ne abbiamo solo 4 che sono rimaste e diventa sempre più facile finire la prova quindi la possibilità di toccare il calco fece molta impressione alla commissione e se ha fatto impressione significa che Gazzaniga avrà vinto dobbiamo vedere dove si dice che lui ha vinto qui no qui dice qualcosa Gazzaniga dovrebbe essere verso la fine la base no attorno a questa base sarà dopo la illunga dobbiamo prima trovare dov'è l'illunga questo è quello che dice Gazzaniga quindi è collegato alla B ma non è ancora venuto il turno della B rimane l'illunga così tra le 53 proposte presentate la commissione scelse il progetto Gazzaniga quindi fece impressione la FIFA e la FIFA scelse il suo progetto la coppa venne così fusa in oro massiccio 18 carati la base invece realizzata con due anelli di materiali semipreziosi quindi questa è la 8 e attenzione base abbiamo questo segno dove ce l'abbiamo ancora questo segno qui sulla H che significa è la 9 attorno a questa base della quale si parlava nella frase precedente in appositi riquadri vengono incisi ciascuno nella lingua ufficiale della relativa nazione i nomi delle nazionali che dal 74 hanno vinto il trofeo che è la numero 9 adesso rimane B e I che sono ovviamente collegate perché in entrambe abbiamo la X perché abbiamo la X perché nel primo nella prima frase dice che Gazzaniga dirà qualcosa e qui Gazzaniga la dice quella cosa quindi qui è la 10 sicuramente perché dice interrogato su questo aspetto il 95 N Gazzaniga dice la sua quindi finché ci sarà spazio rimarrà questa coppa quando non ci sarà più spazio per le nazioni che vincono i mondiali se la vincono altre nazioni che non l'hanno mai vinta ad esempio Brasile Italia Germania Francia sono le nazioni che l'hanno vinta di più se la vince anche il Belgio la Croazia il Portogallo eccetera non ci sarà più spazio per segnare i nomi delle nazioni vincenti sotto quella coppa e avremo bisogno di un'altra coppa e il 95 N Gazzaniga che è appunto lo scultore della coppa attuale dice mi spiace sapere che la mia bambina andrà in pensione quindi lui dice la sua la sua è questa che dirà qui mi spiace sapere che la mia bambina andrà in pensione ma è giusto così mi piacerebbe che a realizzare la nostra la nuova coppa fosse un giovane scultore perché sia espressione della sua epoca così la mia lo è stata del novecento abbiamo risposto a tutto avete visto il procedimento che io ho seguito mentre leggete dovete essere molto attenti estremamente concentrati perché dovete leggere ogni parola e capire dove si ripete abbiamo visto molte parole che si ripetono e che sono effettivamente collegate poi le frasi tra di loro quindi calco disegno concorso brasile base disegno sono tutte parole che notiamo che sono collegate tra di loro perché oltre al limite cronologico quindi siamo nel 71 perché nel 70 è successo questa cosa nel 71 è successa quest'altra poi il 74 come potete vedere è la 9 mentre la 4 è il 71 quindi il 74 non può avvenire prima del 71 perché si segue l'ordine cronologico ma c'è anche l'ordine logico cosa significa? significa che se abbiamo la parola base qui ed è la 8 la 9 sarà l'altra con la parola base perché riprende la frase precedente la base viene realizzata con due anelli e attorno a questa base attorno alla base realizzata con i due anelli succede quest'altra cosa quindi questo rende molto più facile rispondere poi mettere i numeri a lato è un altro consiglio utile perché avete visto le ultime 4 le erano facilissime farle perché erano rimaste solo la B la H la lì lunga e la E e si capiva che sarebbe poi stato facile rispondere perché avevamo anche dei segni collegati quindi la 10 e la 11 avevano anche la X quindi trovata la 10 trovavi subito la 11 e stesso discorso il 9 e 8 avevano la parola base in comune quindi trovando la prima trovavi anche la seconda quindi le ultime 4 o 5 è facilissimo farle il problema e concentrarsi tanto durante le prime 4 o 5 perché devono essere appunto corretta altrimenti è tutto sbagliato bisogna farlo da capo per capire se sono corrette o no dovete appunto fare riferimento all'ordine cronologico e logico che vi ho appena spiegato vi faccio vedere anche il foglio delle risposte perché nel video precedente non l'avevo fatto A G K di F C E I lunga H Bi dovrebbe comunque essere corretto perché fa ha senso mentre la leggiamo tutta ha senso quello che leggiamo l'ordine cronologico e logico hanno senso quindi dovrebbe essere appunto corretta siamo già sicuri di questo vi lascio comunque in descrizione altri esempi di questa prova che potete svolgere potete riascoltare ma io carico anche la prova senza le mie soluzioni cosa significa vi lascio la playlist o tra le playlist che ci sono nel mio canale se scrivete il titolo di ossia CLS B2 produzione scritta se accanto c'è anche la parola prova completa in quella playlist trovate tutta la prova scritta di questo esame quindi testo numero 1 testo numero 2 testo numero 3 i testi si cambiano dopo 18 19 minuti perché avete 50 minuti a disposizione per fare tutti e 3 dovete vedere la prova tenete un foglio una matita davanti a voi cercate di rispondere e negli ultimi tre minuti vi faccio vedere anche la slide o il foglio con le risposte dove potete vedere se avete effettivamente risposto correttamente oppure no quindi dopo aver ascoltato la mia spiegazione in questi tre video della playlist CLS C2 comprensione della lettura potete andare nella playlist CLS B2 comprensione della lettura con prova completa dove avete l'intera prova senza la mia spiegazione potete svolgerla per colpo per conto vostro per capire se siete veramente in grado di svolgere questa prova se avete capito e se siete pronti per l'esame perché un conto è capire la mia spiegazione ma se non riuscite a farla per conto vostro significa che potreste avere difficoltà all'esame magari anche fallire e non vogliamo che questo accada quindi per questo vi suggerisco sempre dopo aver finito di vedere i video dove io spiego la comprensione della lettura andate anche nelle playlist comprensione della lettura prova completa stesso discorso con la grammatica dopo aver visto l'analisi delle strutture di grammatica che faccio io dove vi spiego perché si fa in questo modo perché grammaticalmente è corretto o sbagliato questa cosa poi dovete andare a vedere anche la playlist analisi delle strutture di grammatica prova completa del livello e del compito rispettivo e vedere se siete in grado di svolgere da soli quella prova per la durata di tempo che avete a disposizione in questi esami se riuscite a svolgerla alla stessa maniera significa che avete capito e che potreste essere pronti per fare anche voi per svolgere anche voi la stessa prova da soli grazie della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video ciao